Musica Siamo su Redwood in Dead Match Squad Ok andiamo Andiamo a comandare Let's see Ecco Ok A me per stomaco non mi piace Non mi piace Vai Sì Siamo 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 Dove? Ok Andiamo Allora, andiamo di qua Non lo stai contando nessuno Due, tre Due, tre Oh mio Dio Ok E ecco dove, n'i ono Značemo da skipo Ok Dove siete? Fatevi vedere Una moto appena ucciso Ehi Tu 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 No, no, no Mi ha costato uccidere E non dico Vai 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 Oh mio Dio Che culo Ancora Ancora Vai Sì Sì c'è un'HCXD A disposizione No, no, no Madonna Stavo facendo robe Allora 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 Mi devo nascondere Facciamo qua Tanto mi trova Sì c'è un'HCXD Sì c'è un'HCXD Oh no Andiamo di qua Sì c'è un'HCXD 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 Ma però Mi ha sembrano anche cavato Diciamo un po' Bene Ok 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 ragazzi Siamo su Nuketown Sempre del match a squadre Allora Ma Che è stato? Ah ma quel tizio Ancora è rotto Vengo lì Ti ammazzo Ehi Ok Non ci credo Eh 50 un assist Vabbè No 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 Eh non mi Ah Da che sono un terzo La rampia Uuuuuh Colpa fulminante Colpa fulminante Colpa fulminante Colpa fulminante Boomba Un altro l'ho ucciso vai chi mi uccide vai oh madonna cosa sto facendo ragazzi ancora l'abbia è buonissimo vai qua non c'è nessuno 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 ma i esercitati com io devo solo andare dall'altra parte e dopo però so cosa fai No, non lo vuol dire, non lo vuol dire. D'acqu'è l'ai votato a favore. D'acqu'è fermata, non lo vuol dire. percò no a perché subito ci ha ben non c'est juste che la scocche mi sparo se venite qua vengo giu e volevi e di qua di qua di qua forse non sono 4 mannaggia 12 e 17 si va bene e li potevo sfruttare lo schiavuto che è botevo vai a e te ha fatto non ci credo muovete vittoria si vai così e sono arrivato quattro madonna di quattro di pochino ma proprio pochino vabbè dai ragazzi ce la siamo giocata anche bene questa partita di grey per voi non lo so vabbè però per me ce la siamo giocata bene comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate dei like commentate iscriviti al canale e ciao a tutti e a a Grazie.